Siamo un mercolino! La tarantella siciliana all'hotel Aristò di Taurumina! Yahoo! Sì! Oh, please! Oh, hey! Il trenino dell'hotel Aristò di Taurumina! YouTube, YouTube! Yahoo! La locomotiva è Mario Strazzelli! Yahoo! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Yahoo! Woo-hoo! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! bravi bis